Ciao a tutti dal suo favore, grandissima sorpresa mi trovo, un grande campione, un grande sportivo e una grande persona Eccolo per voi, Tizzo Marzini, Emiliano Marzini, ciao Ecco, ci troviamo qui, siamo qui insieme a un bravissimo giornalista, Emanuele Cagliotti, cortonotte, tutti più Troppe, troppe, troppe Oggi siamo per Emiliano Certo, solo per me, e con tutte queste cinture da campione Sudane, sudane, grandissime, grandi emozioni, due incontri, veramente vissuti per te e per chi li lo smetti tantissimo Allora, questo documentario su di te, vinci qualcosa Oggi è stata una bella esperienza, per un fatto questo documentario, per un'ottima città Oggi è stato un'ottima città, per un'ottima città, per un'ottima città E spero che adesso lo possiamo vedere Ecco, perciò, voi vedetevi sintonizzati sui canali, lui è molto social, su Facebook, anche il gruppo, se ancora non siete iscritti, Tizzo Marzini, insomma, troverete tutti gli aggiornamenti, dico bene Emanuele? Come no, come no, non c'è fuggire più social di Vigliano Marzini, tant'è vero che io l'ho conosciuto troppo sul web e finalmente siamo diventati amici, brutto amici, parlare, e alla fine ci siamo conosciuti Oggi ci siamo conosciuti a vivo per la prima volta, festeggiamo anche questo Ma l'importante, insomma, è questo documentario su di te, che sei veramente un grande rappresentante Ricordiamo la regia, ricordiamo Alessio Di Cosi, un amico, anche lui, grande amico Poi Alessio è veramente un regista, un artista, un organizzatore di eventi E' veramente una persona, è comune, è sfaccettatore, è bravissimo in cui L'affatto non ha voluto, è una persona che mi sarebbe lo stesso, che ha un passione di vicinario E nel senso, diciamo, che si amate nel senso della società, è più speciale adesso Beh, è iniziato molto a psicologia, sul senso della tua persona, sulla tua vita Ma poi a te piace il vicinato l'affatto, lui mi ha detto che anche l'affatto è una partita di vittima Infatti, noi riuscivamo a... ce li siamo trovati in bene perché sapevo come muoversi Come un palio dei diritti, tutto quanto, perché facendo un giudato, standoci dentro Ha saputo mettere bene subito le situazioni per creare questo problema Insomma, non manca che vedere il suo storia di un campione Ecco, perciò, ricordiamo poi una cosa importante Diciamo, ci dici queste cinture, la storia di tutte queste cinture? Allora, vabbè, quella di italiano, però questa è la campione d'Europa Un bellissimo match con Luca Giacon, il primo europeo che ho vinto Dove mi davano al cento per cento il confinio Poi ci abbiamo il titolo mondiale a Liverpool Campione del mondo a Liverpool, poi B.O. L'ho vinto in Inghilterra Poi ci abbiamo il titolo mondiale Silver fatto in Italia E poi il titolo intercontinentale Ecco, allora, vuoi fare qualche ringraziamento e saluto a qualcuno O a tutti di qualcuno in particolare? Un ringrazio a tutti che mi sono stati vicino Che abbiamo potuto organizzare questa bellissima serata Francesca Pigionelli, a tutti i collaboratori E ti ringrazio anche a tutti i fan, a tutti i miei amici E appassionati di Puginale e di sport Ti ringrazio che ci sono Un grande piacere sempre vederti all'opera E ho una sorpresa per te come salutatore Io ho la manina del salutatore Te la devo riferire a un molto piacere Grazie a te vi salutiamo tutti quanti Ciao Il salutatore Il salutatore Ciao